ma non riesco a leggere più niente che questi giornali di oggi sono strani ma proprio strani sembra arabo addirittura voglio sapere i programmi poi c'è dei programmi e non riesco a leggere niente perché tutto ma non lo so ehi vedi che ti in un giornale alla mers alla rovescia giri 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 però ogni tanto potresti essere un po più dolce con me qualche parolina dolce non lo so potresti dirmi qualcosa che mi faccio sentire donna qualcosa che mi faccio sentire donna hai ragione ho ragione certo senti tesoro posso farti una domanda mi compreresti un telefono nuovo mi compreresti un telefono nuovo scusa e quell'altro no quell'altro vabbè quell'altro mi compra un tablet quella e... quell'altro? quella no si è quella non c'è tutto ehi prenda vai Sì, 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 sì.